Alle 10.10 di stamane per protesta hanno bloccato il traffico in via Melchiorre-Gioia a Milano. La CGL del capoluogo Lombardo e della Lombardia insieme a molti lavoratori delle aziende in crisi hanno manifestato davanti alla sede dell'Aggiunta regionale circa un migliaio i lavoratori presenti. Parole d'ordine, promuovere il lavoro, difendere il welfare e riformare il fisco. Il segretario regionale Nino Baseotto ha chiesto le dimissioni di Roberto Formigoni perché ha detto bisogna salvare la credibilità della regione Lombardia dopo la valanga di inchieste e scandali. La manifestazione prevedeva anche un palco con cantanti orchestra che intonavano motivi popolari ma alcuni lavoratori cassi integrati o licenziati hanno contestato questa, a loro dire, deriva della manifestazione chiedendo invece di lasciare perdere le esibizioni canore e di poter discutere i numerosi problemi del mondo del lavoro. Il nostro problema cos'è? Che siamo stati licenziati da dicembre, presidiamo da luglio, da dieci mesi, giorno e notte il problema che è che non ci ascoltano le istituzioni, non ci ascolta nessuno a noi parecchia gente siamo giovani, abbiamo solo un anno, non sappiamo cosa fare, ci siamo rotti non si può venire qua e sentire che ci dobbiamo allegrare con le canzoni delle feste dell'unità non è possibile, bisogna fare qualcos'altro, bisogna arrabbiarci, incazzarci, siamo stanchi. Non è più pensabile che dentro una situazione sociale di questa natura dove giornalmente stiamo perdendo posti di lavoro l'unica preoccupazione che ci hanno questa amministrazione regionale è quella di puntellare la giunta del Presidente chiediamo quindi una forte discontinuità che la politica torni a fare il proprio mestiere e pensiamo che per poterlo fare qui si debba più presto andare anche al voto.